è morta lisa maria presley la figlia della leggenda del rock roll aveva 54 anni pochi giorni prima di morire era apparsa non in forma mentre veniva intervistata su red carpet al golden globes 2023 dove aveva partecipato per il film elvis durante l'intervista aveva detto all'amico jerry shilling ti prendo il braccio mentre rispondeva alle domande del giornalista nella mattinata di ieri lisa maria presley era stata ricoverata d'urgenza a causa di un arresto cardiaco dopo aver accusato un malore